Allora adesso dobbiamo inserire queste immagini. Prima di tutto vado sul piano terra per inserire la planimetria del piano terra. Dobbiamo andare su insert per inserire un riferimento esterno che è un'immagine. Giusto? Insert image. Lui mi chiede il percorso. Io l'ho copiato. Vado qua. Allora io voglio inserire il piano terra. Ok? Ground. Piano terra potete rinominarli. Se volete faccio open. Vedete? Adesso mi chiede di posizionare questa immagine. Ovviamente lui mi lo mette, diciamo, mi prende il punto centrale sul puntatore del mouse e clicco. Adesso mi ha posizionato questo qua. Ovviamente l'ho messo, non c'è una scala precisa qua. Quindi io lo devo scalare. Però mi l'ha posizionato lì. Questi due indicatori dei prospetti si possono spostare. Allora questo funziona come AutoCAD se nella selezione. Se seleziono da destra a sinistra mi seleziona tutti gli oggetti che intersecano questa finestra di selezione. E invece se io voglio spostare questo, posso fare così. Che se clicco dentro mi seleziona anche questa immagine. Io faccio così e questo lo posso spostare fuori. Questo non mi importa dove sta perché questo è un prospetto, una proiezione perpendicolare. Quindi non mi importa se sta lontano o vicino, basta che non mi dà fastidio. Quindi così va bene. Allora, questo va scalato. Questa immagine va scalata. E c'è un riferimento che è questo qua. La scala metrica. Seleziono l'immagine. Notate qui quando seleziono un oggetto cambia questo toolbar. Vedete che succede? Qui mi dice modify raster image. Quindi questo è un toolbar interattivo che cambia in base all'oggetto selezionato. Quindi adesso lui ha capito che è un'immagine e mi dà tutte le opzioni che servono per modificare un'immagine. Che in una parte questi modify e anche questi qua sono tutti gli stessi sui vari oggetti come copia, specchia e tutto quanto. Li troviamo anche se selezioniamo altri tipi di oggetti. Allora, seleziono questo. Questo va scalato a questa immagine. Quindi seleziono scala scale. Allora, vedete qui? Qui questa è una barra di opzioni. Che questa non ci sta normalmente. Ok? Non ci sta niente qua. Se seleziono questa, ci sono opzioni qua. E se decido di scalare, guardate, la proporzione è bloccata, quindi non si deforma se questo è attivo. Se seleziono questa e vado su scale, guardate, adesso scale mi dice che può essere grafico o numerico. Quindi io posso scalarlo di un certo numero, due volte 0.5, quello che voglio come numero. Posso inserirlo qua. O posso fare graficamente. Quindi io, nel mio caso, è più facile graficamente dire da qui a qui deve essere 5 metri. Quindi, allora, quando ho dato il comando, graphical, adesso, se vedete in basso a sinistra, vi chiede di fare una certa azione. Quindi click to enter origin. Quindi l'origine sta qua. Ok? Mettiamo su 0 qui. Quindi mi avvicino tanto per fare una cosa precisa. Ovviamente non posso scendere sotto la precisione di un pixel, però, vedete, tra questo pixel e questo mi metto qua. Poi, se mi avvicino, vedete come lui mi mette orizzontale. Se sono più o meno orizzontale, vedete così, vado a caso. Invece, quando comincio a diventare vicino alle linee orizzontali, ovviamente mi lo fa come snap. Mi avvicino tanto anche fino qua. Clicco. Adesso, questa lunghezza, che è adesso, guardate, 5.9, deve essere 5. Quindi scrivo direttamente 5 e faccio invio. Adesso sta in scala. Ok? Quindi da qui a qui sono 5. Se faccio misura, da qui a qui, posso verificare se è 5 o no. Ovviamente più o meno è 5, perché l'ho fatto da lontano. Però, vedete, se seleziono l'oggetto, qualsiasi oggetto mi dà questo strumento di misura. Quindi vado da qui a qui, posso verificare se sono 5 e vedo sopra che più o meno sono 5. Quindi va bene. Posso anche verificare dei oggetti dentro, per esempio la pedata. Cliccando su un oggetto, prendo una misura, da qui a qui, guardate, 29.45. Quindi più o meno è giusta questa scala. Adesso vado su Architecture, vado su Ref Plane, creo dei piani di riferimento come i fili fissi nella pianta. Nel senso, io adesso vedo un muro importante qua, che è questo qua, che è il muro del prospetto. Lo faccio dall'inizio alle fine, questo piano di riferimento. Il piano di riferimento non è solo una linea, quello che vedo. È un piano verticale, che adesso lo vedo sezionato perché sto in pianta. Quindi io l'ho creato da qui a qui. Posso allungarlo, cliccando, trascinando. Mi posso avvicinare e posizionarlo meglio. Se è selezionato con la freccia verso il basso, vedete, lo posso mettere più o meno preciso. Ok, vedete, adesso sta bene là. Vedete? Perfetto. Allora, faccio vari di queste linee perché quando metto quello sopra, voglio verificare che corrisponde sopra con sotto. Giusto? Devono corrispondere perfettamente, altrimenti non torna il lavoro. Questo può essere copiato, vedete, con copy, copia, da qui verso l'alto, lo posso mettere qua. Ok? Questa ha una linea anche molto importante perché, vede, questo muro è allineato sopra e questo è allineato sotto. Anche questo qua può essere posizionato qua. Ok? Questa ha una vetrata, questo esce fuori. No, preferisco metterlo allineato a questo qua. Ok, questo va bene. Alcuni piani di riferimento verticali anche sono importanti, quindi faccio questo qua. Ok. Copio. Metto un altro qua. Ok. Un altro qua. Ok, lo posso un po' spostare, ecco. Va bene. Allora, adesso facendo questo, queste linee che ho creato, che sono piani di riferimento, se vado per esempio in prospetto sud, vedete come li vedo in verticale, adesso so che da qui a qui la planimetria, ok? Perché è un piano, come abbiamo detto. Se vado al piano primo, nel piano primo non si vede l'immagine sotto, ok? Perché ogni vista ha la sua proprietà, quindi questa vede solo quello che sta lì. E può vedere anche quello che sta sotto se io cambio le opzioni. Qui devo inserire anche un'altra immagine, quindi image. Qui devo fare il piano primo, quindi first, clicco, eccolo, l'ho messo. Adesso, guardate che posso fare. Invece di usare questa scala metrica, mi basta posizionarlo, scalarlo per farlo entrare tra questi due piani, giusto? Dovrebbe essere la stessa cosa, però è più preciso quello che facciamo adesso, perché è una lunghezza, è più lunga, diciamo. Questa è la lunghezza da qua a qua, più grande di questa da qua a qua. Quindi se io faccio un errore di pixel qui dentro, rispetto a 5 metri, potrebbe essere 10 centimetri, 5 centimetri. Invece se io qui faccio un errore di un pixel, per, che ne so, questi saranno 20 metri, allora sbaglio meno, ok? Un pixel di 20 metri è un po' più piccolo. Quindi faccio, questo lo sposto, ok, guardate, questo dovrebbe essere qua, ok, più o meno. Anche con le frecce posso andare più preciso. Adesso non mi importa, su questa direzione mi importa solo di questo. Ah no, ho sbagliato, mi sa che questo dovrebbe essere qua. Ok, ok, allora faccio scala, da qui, ho sbagliato, allora faccio uso da qui, scala, da qui fino qui, ok? Ok, sempre grafica, lo sto lavorando, lo faccio arrivare qua, giusto? Adesso questa, 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 questa planimetria viene abbassata finché questa corrisponde a quello sotto. Ok, adesso devo verificare se altri tornano. E qui vedo che tutto torna perfettamente, questo qua, questo qua, ok, questa registrazione. Per creare una sezione vado su view, section, sezione. Adesso devo indicare dove deve passare questa sezione. Allora, io la voglio far passare su questa scala, così, e guarda verso destra. Quindi faccio così, una linea, per esempio, da qui, con shift vado, vado dritto verso il basso, vado in ortogonale e clicco qua. Ok? Allora, questa è la sezione, c'è la freccia che indica la direzione dove guarda questa sezione. Se clicco su queste due frecce, si inverte. E quello che vediamo in tratteggiato è la profondità della sezione, dove guarda la sezione, vede da qui a qui, che è poco. Noi vogliamo che vede fino alla fine di questa struttura. E anche possiamo allargare la vista, vedere di più o di meno, quindi finisce qua. Perché la sezione, ovviamente, non è infinita. Io sto vedendo solo dentro questo quadrato. Sì, sì, sì. E quindi, adesso... Questo lo posso, ovviamente, farlo più corto, più lungo. Ok? Allora, adesso è nato, in automatico, qui, un nuovo settore che si chiama sezione, sezione 0. Allora, adesso vado su... Rename. E questo lo chiamo sezione, che ne so, AA. Ok? Faccio doppia clic. Vedete che sta guardando questa sezione. Questo, quello che vede. Ovviamente niente, perché ancora non ho costruito niente. Però, posso ingrandire la vista. Vedete, quando l'ho alzata, questa finestra della sezione, vedete, mi appare adesso il piano primo. Il piano terra sta qua. Ok? Lo posso abbassare per vedere sottoterra. Quindi, adesso stiamo immaginando che c'è la struttura qua. E ora posso inserire l'immagine. Insert image. E questa, la sezione, che è questa qua. Ok? Section 1. Questa qua. Vedete? Clicco qua. Vedo solo la parte che sta dentro la sezione. Lo posso alzare, posso spostare a destra e a sinistra, finché non trovo la posizione giusta. Allora, la posizione giusta, abbiamo detto che il prospetto sta qua, la linea del prospetto. Immagino che è questa qua. Se voglio verificare, torno sul piano terra. Ok, vedete? Sì, questo è il prospetto. Il terrazzo va un po' oltre. Non mi interessa, torno alla sezione. Ecco, il terrazzo va un po' oltre. Quindi questo va bene qua. Però, l'altro, questo, deve essere questo qua. Questo lo posso alzare per arrivare qua. E anche questo, il piano di riferimento, può essere più alto. Seleziono la sezione, l'immagine della sezione. Scale. Da qui, o vado qui, così vado al livello di questa. Mi avvicino a qui. Torno, lo metto qua. Ok. Ho reso la fine di questo muro. E' questo qua, guarda. Se vado sul piano terra, è questo qua. Ok. La sezione passa così, quindi vedo in prospetto questo muro. Che è un camino qua, e poi qui continua come un muro. Torno alla vista di sezione. Ok. Arriva fino qua. Allora, l'altezza di questa immagine. Adesso la quota è sbagliata. Quindi questo, il piano terra. Usiamo il piano terra, che sta qui. Questo lo sposto. Per non sbagliare, uso le frecce, così vado in verticale. O posso anche usare il shift, per andare dritto. Ok. Ancora. Ecco, così va bene. Questo piano terra. Però adesso noto che il primo piano, il piano primo, è sbagliato. Non è a 4 metri. Perché la scala di questa sezione adesso è corretta, giusto? Qui io l'ho messo a 4 metri a caso all'inizio. Adesso lo dovevo mettere bene. Essendo di proporzione fissa questa immagine, quindi se ho cambiato, ho messo la larghezza in scala giusta, quindi l'altezza ovviamente è giusta. Quindi adesso posso calcolare l'interpiano, che è questo qua. Ok. Posso anche usare lo strumento per misurare. Vedete? 3,62 e 50, mi dice. Proviamo con 3,60. Penso che può andare bene. Quindi seleziono questa, o posso cambiare questo numero qui, che è l'interpiano, o posso cambiare proprio qui. Faccio 3,60. Mi lo abbassa lui. Mi lo mette qua, che mi piace. Ok. Adesso, avendo queste quote giuste dalla sezione, abbiamo detto che si vedono bene. Ne salvate ogni tanto. Vado in prospetto per aggiustarlo dentro il prospetto. Che qui non lo vedo. Quindi vado su Elevation, Sud. Ok. Vado in prospetto. Vedete? Adesso lo posso selezionare e lo sposto verso il basso. Ancora un po'. Adesso qui torna e anche qui torna. Vedete? Quindi sembra che è adesso posizionato bene questo. Faccio di nuovo. Allora, per creare un nuovo livello, copio questo livello vecchio. Ecco, 3,60 diventa, diciamo, è giusto qua. E posso cambiare da qua la quota, se mi serve. Doppia clicca il soffitto. Ok. Qui non li trovo dentro le viste del floor plans. Quindi vado su Views. Plan Views. Voglio creare una vista di un piano. E qui mi dice che cosa, cioè, che tipo di planimetria vuoi. Io voglio la planimetria, il floor plan. Quindi piano del pavimento. Clicco. E lui mi apre questa finestra chiedendomi di quale di questi. Perché lui sa che sono questi due che non hanno una vista corrispondente. Io dico tutte e due. Ok. Faccio ok. Vedete adesso c'ho piano interrato e soffitto. Adesso subito mi è andato alla vista del soffitto del... Che cosa si vede sopra? Soffitto o si chiama tetto, no? Quindi va bene. Comunque, è questo qua. Allora, adesso sono vuoti, non c'hanno niente. Possiamo inserire l'immagine raster di riferimento. Così. Così.